Allora, oggi vi faremo vedere le ragazze a casa del sole Oggi, in questo video, vi faremo vedere le spaccate, le spaccate così, le spaccate così E vi faremo vedere anche il mullinello, la voglia, tanto scherzi, pop, pop Comunque, possiamo anche iniziare a bastare anche le gambe Salutiamo Ottavio, che ora si deve andare Ciao Sentite la canzone Ehi, che calma il mio nonno, si mantiene, che cazzo è, come ho fatto io Stavo a fare un video mio, che me l'ha, e dai, appa, il bello lo fa Iniziamo a fare prima le spaccate, che sono i miei anni Iniziamo a fare le spaccate, faccio capire un po' più in me, un po' più avanti Così, così, e mi giro, un po' più in me Iniziamo a fare le spaccate, se capite, faccio le spaccate, e giro, un po' più in me Perché così, distendono i ragazzi Sogliamo i ragazzi E facciamo la foglia Oltre la leva, ti devo fare la foglia Non è bene Perché non mi ha fatto bene Non so, non mi riuscire Non è che mi metto di qua, d'arica Anche se mi spanno No, ragazzi, scappa di culo Ok, ritroviamoci Anche se No, ragazzi, avete visto, no? Ora non mi ricordo tanto la foglia Perché ho paura Mi faccio male Comunque Mi faccio delle spaccate Puglinello e un po' la foglia E facciamo Un'altra cosa Quindi vi facciamo le spaccate Quindi vi facciamo le spaccate Così E questa è la spaccata veloce Così, guardate Non mi muore Guarda, non mi faccio Guarda, guarda, non mi faccio la spaccata veloce Non mi faccio le spaccate Non mi faccio le spaccate Non mi faccio le spaccate On Ci stavo facciando, non sai Allora, adesso stiamo Non mi rendendo Facciamo Mi c'è Un po' di Ti stavi Ah guarda, ah guarda questo occhio, valla venite a me, valla venite a me, valla venite a me, ah si muore, perché tu non mi metti l'antenna, scusa, eh, metti l'antenna, non mi metti l'antenna, e fa la mamma, ora faremo questo, quello lì che è il mio cane, guarda come valla, benvenuti in questo nuovo video, adesso vedete con il cane, vattene, di là, sottivano, sottivano con il cane, ma che sottivano con il cane, siamo tornati qui, ora, siamo così, ora facciamo un po' con il cane, e facciamo un po' con il cane, mamma, in effetti possiamo fare dritto, queste sono parti innamorati, sottivano le gande, ovviamente stanno la danza, la danza, si, ma non lascio farlo, andiamo a mettere le stelle, anche rosa, anche lei, questo è un unico balletto, questo che faccia davvero un lock baby, a questo riscaldamento, ora, alziamoci, staccata, staccata così, di nuovo, toccata così, ok, sogliamo, 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 campana, 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 ruota, 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 ecco, annuncia, nulla telecamera, ok, andiamo, ecco qui, questo è il video dagli, dagli odi, dagli oti, o e oti, la descrizione è, oh, e dagli oti, trattino, me contro te, abbiamo copiato un po' a Sofì e lui, quindi, questo video finisce qui, e speriamo che vi sia piaciuto, vorremmo in questo video, io vorrei 10.000, 20.000, 50.000, e allora, io vorrei, su questo video di ginnastica, 60, anche come 50, 50, va bene, anche 20, 20, va bene, ok, speriamo che questo video vi sia piaciuto, mettete 20.000 like, e ci vediamo, ciao!